L'ingosso l'ha amato con la crema acida, l'harpava un monte e poi la sera gli raccontavo le storie. Ce n'era tante di l'harpava, non è di nardo. Io cercavo di trattenerlo, gli raccontavo la storia di fuoco. E' che fuoco e non volesse soggetta all'acqua. E non mi va bene, hai fuoco che l'acqua spia sopra il pentolone. E allora il fuoco la fa bollire perché volesse ne vada. E l'acqua, l'obbedienza, olle, esce da il pentolone e spece il fuoco.